Parliamo di Bagnoli, mentre si pensa alla grande, ovviamente parliamo dell'American's Cup, i problemi contingenti non mancano, soprattutto per l'Arenina di Bagnoli, che rappresenta forse uno dei pochi punti di aggregazione per giovani. Ebbene, proprio l'Arenina di Bagnoli è stato chiuso, apposto i sigilli dalla Polizia Municipale, mancano garanzie per quanto riguarda la sicurezza dell'intero complesso. Violanda De Rienzo. Sequestro preventivo dell'Arenina di Bagnoli, uno dei luoghi preferiti dai giovani napoletani, punto d'incontro per la balneazione e luogo di svago con concerti e serate. La struttura, secondo la Procura di Napoli, non ha i requisiti per l'agibilità. A darne la notizia, la Polizia Municipale, che ha eseguito il sequestro. Infatti, come si legge nella nota del corpo comandato dal generale Luigi Sementa, la struttura di oltre 10.000 m2 è stata colpita da una disposizione dirigenziale che vieta la prosecuzione delle attività di intrattenimento per mancanza dei titoli abitativi in materia di agibilità. Gli uomini della Polizia Municipale, coordinati dal Tenente Salomone, hanno così posto sotto sequestro preventivo la struttura, come disposto dal Procuratore aggiunto De Chiara e dal PM Bisceglia.